Oh Dio, fonte di bontà e di perdono, tu hai voluto chiamare San Pio da Pietrelcina e San Leopoldo Mandic perché nella loro vita manifestassero l'annuncio gioioso del Vangelo della Misericordia e la bellezza e la forza del tuo perdono e della tua compassione. Fa che tutta la Chiesa risponda al tuo desiderio inesauribile di offrire misericordia e che la nostra vita si apra alla tua chiamata donando amore, dolcezza e comprensione. Amen. Saziaci Signore con il tuo amore, gioiremo per sempre. Saziaci Signore con il tuo amore, gioiremo per sempre. Insegnaci a contare